Buongiorno a tutti, oggi siamo qui al Webicom, una quinta edizione, che si svolge qui a Bari, uno degli eventi più importanti sull'e-commerce al sud. Abbiamo coinvolto i più importanti player del commercio elettronico, da Amazon, Alibaba, Presta, Shopify, Paypal, Nexi, Worldline, Flowey, veramente tantissimi, che sono venuti qui per raccontarci nuovi trend, le novità sull'intelligenza artificiale, sul commercio elettronico e infatti abbiamo in questi due giorni piena di partecipanti, di venditori che vengono a scoprire quelle che sono le novità e quelle che saranno sia di quest'anno che degli anni successivi. Al sud l'e-commerce cresce, secondo una ricerca condotta da Amazon, i venditori pugliesi e della Campania raggiungono lo stesso e superano il numero di venditori della Lombardia, quindi possiamo ben capire come l'e-commerce al sud si faccia bene ed è importante comunque sempre tenersi aggiornati per scoprire quelle che sono le novità del futuro.